Musica Fondazione Limpe, questo è il terzo anno della traversata Swim for Parkinson. Siamo con la dottoressa Francesca Morgante. In questo splendido scenario dello stretto di Messina si darà appunto questa terza edizione. Sì, terza edizione della Swim for Parkinson. Ci saranno 20 persone col Parkinson e 10 fra caregivers e neurologi che lo daranno con loro per supportare la ricerca sulla malattia di Parkinson, in particolar modo donando alla Fondazione Limpe per il Parkinson. Il Parkinson come sappiamo non colpisce solamente le persone di una certa età ma colpisce anche le persone più giovani perché si è scoperto che questa malattia non è solamente una questione appunto di età ma può colpire anche ragazzi come vediamo qua che sono presenti. Il Parkinson non è solamente la malattia dell'anziano, può colpire tutte le fasce d'età, può colpire persone fra 40 e 50 anni quindi nel pieno della loro attività lavorativa è relazionale, è sociale. Siamo qui per sensibilizzare su questa malattia ma siamo anche qui per sensibilizzare sul rapporto medico-paziente che è in tutto e per tutto una partnership, un'alleanza e questa staffetta fra medico e paziente serve proprio a rappresentare questa alleanza. Come si può pensare il movimento potrebbe essere una parte negativa per le persone affette da Parkinson ma questa giornata dedicata appunto al nuoto ci fa capire che non è così, anzi il movimento può aiutare queste persone. In realtà una delle maggiori scoperte scientifiche degli ultimi dieci anni è stato proprio l'esercizio fisico è una terapia per la malattia di Parkinson, è ugualmente come le medicine. Ci sono ormai studi che dimostrano come l'esercizio fisico costante nelle persone col Parkinson rallenta la progressione della malattia, migliora la connettività fra aree cerebrali e quindi per questo è importante promuovere l'importanza dell'esercizio fisico. Lei appunto parla di cure, di terapie, ma si può fermare il Parkinson o siamo ancora solamente a delle terapie e non c'è una vera e propria cura che può fermare la malattia? In atto abbiamo solo cure sintomatiche, anche molto potenti come la terapia chirurgica ma non abbiamo una terapia che sia in grado di fermare la malattia perché non conosciamo bene i meccanismi di questa malattia. Per questo serve finanziare la ricerca, per questo siamo qui chiedendovi di supportare la ricerca supportando la Fondazione Limpia per il Parkinson. Aderiamo a questa iniziativa perché il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, di raccogliere fondi per la ricerca e perché vogliamo dimostrare che la vita non finisce dal momento della diagnosi ma si può vivere dignitosamente nonostante il Parkinson. Lei sta partecipando, quali sono le sue emozioni? Domani dovrà affrontare questi 3,5 chilometri dello stretto, come affronterà questo percorso? Ha avuto una preparazione prima oppure in questi tre anni sei già formata per fare questa traversata? Allora in realtà io vengo dal nuoto, da giovane, ero una nuotatrice. Negli ultimi anni per affrontare lo stretto di Messina sono ritornata in acqua, quindi mi sono comunque preparata. La sua prima edizione qui alla Swim for Parkinson, perché hai aderito a questa iniziativa? Ma diciamo che fare la traversata è sempre stato un mio sogno, però l'ho ammetto, ho sempre avuto paura dei fondali. In questo caso Francesca mi ha entusiasmato subito col suo progetto, per cui la motivazione è stata ben più forte di tutti i timori, quindi ho scelto in un attimo, nel momento in cui lei mi ha proposto ci ho pensato proprio 30 secondi e ho accettato. Sono molto contento, sono anche molto emozionato di farla e soprattutto di farla con loro, perché mi hanno già coinvolto con il loro calore e con il loro affetto. Da campione di pallanuoto, quindi conoscitore dell'acqua, dello strumento acqua, come affronterai tutto questo? Andrai piano rispetto all'oro? Ma di certo non è una gara sportiva, nel senso non è importante chi arriva prima o qual è il tempo, l'importante è appunto la motivazione e lo scopo. Poi io sono esperto di acqua colorata, non di acqua di mare, per cui tutto è possibile, probabilmente saranno loro a darmi conforto nei momenti di difficoltà, insomma saremo una bella squadra, quindi sarà bello arrivare fino in fondo. Messina-Cannitello, Capopeloro-Cannitello, è una attraversata un po' impegnativa, 3,5 chilometri, ma come hai detto tu i tempi non sono importanti, l'importante è arrivare. Ma penso che quando c'è una motivazione così forte, c'è un entusiasmo come quello che sto vedendo oggi, poi la fatica passa in secondo piano, quindi mi auguro che sia una giornata bellissima come quella di oggi, sia dal punto di vista delle condizioni climatiche che dall'entusiasmo che si respira appunto in questo ambiente, per cui 3,5 chilometri secondo me diventeranno pochissimi rispetto alla portata di quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.